Sono circa 2010, quindi sono già 9, quasi 10 anni, quindi sono una persona che può realmente dire in questo momento come tante altre dove sta realmente la differenza. Sono un'atleta paralimpica perché quando sono diventata disabile ho pensato che dovevo continuare, anzi avrei dovuto fare qualcosa di diverso dove facevo più da anni ed è quello che ho fatto. Mi sono andata allo sport, sono diventata campionessa italiana, ho fatto tantissime esperienze e da quel momento mi sono resa conto che i muri esistono. E qua non si parla solo di barriere, diciamo di costruzioni, di strade, di marciapiedi, ma di barriere che vanno dalle barriere fisiche alle barriere mentali. Le barriere fisiche vi devo dire, noi diciamo sempre la nostra città, la Sicilia è piena di barriere, ma vi assicuro che le barriere ci sono in tutto il mondo. Io ho viaggiato, sono andata a Hong Kong, non riuscivo a salire nella maggior parte dei negozi perché non hanno neanche gli indiscivoli, quindi non è vero che ci si può muovere facilmente nelle altre città mentre nelle nostre città è un disastro. È vero, quando la mattina si esce sai che vuoi andare, devi andare in un posto e non sai realmente cosa troverai. Questa è un'incognita che ogni disabile ha, ma non solo il disabile che vive in carrozzina, ma anche coloro che si muovono perché hanno delle patologie come la sclerosi multipla o altre patologie che quindi ti danno delle difficoltà proprio fisiche anche a camminare regolarmente o alla stanchezza fisica. Come si va avanti? Si va avanti nella speranza che la nuova generazione possa realmente cambiare qualcosa. Cambiare qualcosa non è facile, lo so, ma la speranza siete proprio voi perché magari fra tanti di voi ci sarà qualcuno che domani vorrà fare il costruttore. E allora quando dovrà costruire il suo primo palazzo il pensiero quale dovrebbe essere? È vero, non lo sappiamo se in quel palazzo ci sarà mai un disabile. Però se ci sarà uno che abita qui e è un amico disabile e non potrà mai salire perché l'ascensore non è adeguato per le dimensioni. Davanti ci sono le scale. Realmente io ho fatto degli incontri anche con persone che si occupano di costruzioni e mai nessuno ha pensato che ci può essere qualcuno diverso, diverso dagli altri. E quindi l'ideale quale sarebbe? Adeguare. Adeguare è tutto. Adeguare è cominciare dalla nostra città dove il sindaco ha già cominciato con degli incontri proprio con le persone che sono specializzate nel settore perché è importante poter dare a tutti la possibilità di muoversi come tutti gli altri. Perché vi assicuro non è facile. Una volta per esempio mi ritrovo per strada, voglio andare in un negozio e dico ah guarda ma tu c'è un negozio bellissimo arrivi là e ti scoraggi, ci sono 3-4 gradini, come li faccio? Niente, torni indietro. Vai in un centro commerciale? Avete mai provato a passare in carrozzine in uno di questi negozi Dezenis o varie? Non si passa ragazzi. Perché ci sono gli stand talmente vicini che per passare ma alcune volte faccio tipo, avete presente questi percorsi dove tu devi fare, entrare, uscire, trovare uscita valida? Ecco la stessa cosa. Perché realmente non si passa. Quindi chi fa l'allestimento del negozio non si rende conto e non ci pensa. Ma io che sono stata diciamo una norma, tra virgolette, me ne rendo conto perché anche io non avevo mai pensato riflettuto a determinate cose. La barriera che un disabile deve fare la spesa e non arriva allo scaffale in alto. Io non avevo mai riflettuto a questa cosa. Ne ho riflettuto a un momento in cui mi sono ritrovata seduta. E allora ho detto mamma mia sto facendo la spesa come vado? A prendere. Ragazzi basterebbe niente. Una classica pizza per prendere gli oggetti. messa negli scaffali. Ma purtroppo noi sappiamo bene che a Palermo queste cose non si possono fare perché sparirebbe immediatamente. E allora quello che io ho suggerito a diversi negozianti teniamo la cassa. Il disabile arriva, chiede naturalmente la pinza, la porta con sé, non ha bisogno di come faccio io ogni tanto non sto lì di corridoi, che mi sento tipo falchetto. L'avete presente il fatto sta là, no? In agguato ad aspettare, no? Dico passerà qualcuno. Appena vedo qualcuno vedo un più bassino e dico no, non lo chiedo. Magari vedo una persona anziana e dico no, non lo chiedo. Poi magari arriva il ragazzo alto e dico eh vieni qua, fermati, scusami per favore, mi prendi quella cosa lì sopra. Dico sembra una cretinagine ragazzi, ma è la realtà. È la realtà vera. Nelle piccole cose. Non riuscire a raggiungere un posto. E mi rendo conto che per voi è impossibile pensare una cosa del genere. Che la mattina vi alzate, prendete l'autobus, salite. Avete notato che per salire in metropolitana i nostri ingegneri hanno sbagliato lo spazio? Cioè se io devo salire, devo stare veramente attenta, ma lo stesso con un passeggino. Una mamma con un passeggino ha lo stesso problema. Perché lo spazio che c'è tra i marciapiedi e la metropolitana è tanto che il rischio è che le ruote di davanti ti vadano giù. A meno che non sei talmente bravo a impennare e a riuscire a fare la cosa. Altra parentesi. Come si fa a imparare ad andare in carrozzina? Bene. Anche qui parliamo di barriere. Perché? Mentre al nord Italia, quando tu subisci una lesione spinale o qualche altro problema, ci sono degli ospedali dove esistono dei fisioterapisti che ti fanno dei corsi dove tu impari a utilizzare la carrozzina. Qui da noi non è mai stato organizzato neanche al centro spinale Villa delle Ginestre un corso dove un fisioterapista si metta là di santa pazienza e dica ok ti spiego come devi usare la carrozzina. C'è un problema, c'è un modo per imparare a impennare, per mantenere il baricentro al centro in modo che tu non possa finire nuovamente indietro ma riesci a sollevare le ruote davanti. Se questo non lo fai in un centro specializzato fuori, qui da noi o impari da solo con rischio di cadere tante volte, io per esempio sapete cosa facevo? Devo dietro un materassino e provavo. Non vi dico quante volte sono più da giù dietro. Insomma poi io sono un po' un pasticciona quindi queste cose purtroppo mi succedono. E queste sono delle barriere, delle barriere reali. Poi ci sono delle barriere che vanno oltre, quelle che sono le barriere mentali. quelle, vi devo dire, dal mio punto di vista fanno più male. Perché ci si rende conto che in fondo ognuno guarda a se stesso, non pensa ad altro. Quelle sono quelle che ti feriscono di più. Perché ti rendi conto che per quanto le persone sono disposte a fare determinate cose e non tutte le pensano allo stesso modo. Un esempio facilissimo, sicuramente una cosa che non sapete. Quando ho un disabile, voi sapete che per fare benzina hai due possibilità. Ho il servito o il fai da te. Il fai da te costa meno naturalmente. Quindi uno di solito cosa fa? Fa il fai da te. Un disabile come fa il fai da te? E allora se trovi la persona, il benzinaio che è lì, che è una persona graziosa, educata, tu gli dici, guardi, gentilmente, io non posso scendere. Mi fa lo stesso la benzina da questo lato? E magari ti dicevi sì. Ma vi assicuro che ho provato anche personalmente. Qualcuno che mi ha detto, no, io non è che sono qui per lei. Io vengo pagato. E non vengo pagato per fare questo servizio. Se lei vuole, le faccio il servito. Il fai da te se lo fa da solo. Sì, lo so. Nessuno parla perché è veramente vergognoso. Eppure succede. E succede qui a Palermo. Ma la notizia bellissima, e io mi sono fatta una foto su questo, perché la regione Sicilia ha approvato un nuovo regolamento che ancora tutti non conoscono e non sanno, dove tutti i benzinari siciliani hanno il dovere di fare il fai da te al disabile. Quindi finalmente il disabile può pagare la benzina meno di qualsiasi altro. Questa è una cosa che è stata approvata da pochissimo. Qui la regione Sicilia, che è una cosa, devo dire, meravigliosa. Perché finalmente abbiamo ottenuto qualcosa che è giusto. Altre barriere. Immaginate quando si parla solo di disabilità fisica, ma anche di disabilità diverse. Parliamo di autismo. L'autismo, prima si sentiva solo a qualche bimbo, adesso ci sono veramente tanti bambini che hanno un problema di autismo. E la cosa triste e grave è che purtroppo non è facile. In altre nazioni stanno mettendo in atto qualcosa che aiuti i genitori. In che senso? Spesso le mamme che hanno bambini autistici si sentono a disagio quando vanno a fare la spesa. Perché il bambino autistico o il bambino che abbia una particolarità non riesce per esempio a stare fermo, no? Non riesce a stare fermo con le mani, quindi magari tocca inappertitamente i prodotti, tocca alcune cose. E ci sono stati dei casi in cui i genitori sono stati ripresi dagli impiegati. perché naturalmente l'impiegato non sa cosa il genitore ha dietro. Quindi molte mamme evitano di portare i bambini in questi posti. All'estero è stato fatto qualcosa di particolare. Quando tu entri in un supermercato e hai o vai in qualche posto o hai un bambino autistico, chiedi, ve lo metti in questo entrato in un locale, una specie di braccialetto o di collanina colorata, l'hanno usata per esempio verde, no? Quindi quando il genitore entra e ha questo bimbo, l'impiegato riconosce immediatamente il bambino con una patologia, con una particolarità e naturalmente in questo modo non viene mortificato il genitore, che è una delle cose più terribili devo dire, perché poi il genitore in questi casi si sente anche molto a disagio. Quindi veramente le barriere sono tante. A me è successo per esempio una volta e io dico che è importante che noi questi incontri li facciamo proprio nelle scuole, perché un domani sarete genitori. E' il messaggio che voi dovete dare ai vostri figli, è un messaggio positivo, un messaggio di non diversità di altre persone. Ero al supermercato, stavo facendo la spesa e un ragazzino teneva, posso dire, forse 9-10 anni, non di più, teneva il carrello insieme alla mamma, spingeva questo carrello, io avevo il carrellino piccolo, ci siamo scontrati perché lui correva un po' troppo. La prima espressione del bambino è stato ma questi disabili pure a fare la spesa devono venire. Il genitore è rimasto di differente, tranquillo. Quindi cosa c'è? Sicuramente il bambino di suo, vi assicuro, nell'anima questo non lo vera, l'avrà sentito dire a un genitore. Quindi quello che è importante è passare i messaggi a voi, a voi che siete il nostro futuro, perché purtroppo noi ormai abbiamo fatto quello che dovevamo fare, è stato fatto anche in maniera sbagliata. Siete voi quelli che dovete dare l'esempio futuro, siete voi quelli che potete realmente cambiare le cose. Lo so che in questo momento, cioè alla vostra età, io penso che da qua avete dai 14 ai 18 anni, 17 anni, e per voi è una cosa, ma questa mi sta a dire, a me non interessa perché io tanto, non è un problema che non mi riguarda. Vi assicuro che non è così. È proprio il vivere, l'accettare, la diversità, l'accettare, il compagno diverso, anche se il compagno non è disabile, non sarà mai uguale a voi. C'è la compagna che è della danza, non gliene frega niente, è una ragazza che vuole fare calcio e farà calcio e non è perché è diversa dalla norma di tutte le altre ragazze, è una ragazza che deve essere messa da parte, perché purtroppo succede anche questo nelle scuole. Quindi parliamo di diversità, di barriere, dobbiamo abbattere le barriere del pregiudizio, di avere davanti una persona diversa a noi. Siamo tutti diversi, ognuno di noi ha il proprio pensiero, il proprio modo di vivere, il proprio io, la propria anima. e sicuramente, diciamo perché vado più d'accordo con uno e meno con un altro? Perché sicuramente le due anime vanno d'accordo, ma non è detto, però tu puoi non andare d'accordo con una persona ma rispettarla per quello che è realmente. Io ho parlato poco fa con il preside, professoressa, e ho, mi ha detto di parlarne con lei e mi volevo parlare qua con i ragazzi, perché da tanto tempo vorrei fare una cosa bellissima, siccome voi, non è la prima volta che io vengo qua e ho visto che la scuola sta lavorando tanto su questo, non solo sulle responsabilità ma sulle barriere, sui pregiudizi e su tutto, sarebbe bellissimo e qui avremo bisogno dell'aiuto del carissimo dottoressa Rosalba Moratori, fare con uno di voi, e naturalmente la famiglia dovrà essere d'accordo, quello che è, io oggi vivo da disabile. L'idea è quella di prendere uno di voi, disposto a farlo, che la mattina ci sarà naturalmente un operatore che farà le riprese, che la mattina si sveglierà e anziché trovare accanto al letto il solito cosa, troverà accanto al letto una carrozzina. E allora dovrà sedersi, mettersi in carrozzina, andare in bagno, andare in carrozzina, lavarsi, fare tutto quello che fa di solito un disabile e provare a vivere una giornata piena, andando a scuola, andando a trovare, a vedere gli amici di pomeriggio per prendersi una cosa al bar, andare in un centro commerciale, una giornata da disabile. Per poi avere a fine giornata il vostro commento, vostro commento che sarà importantissimo, perché sarà un messaggio veramente importante. Perché sì, è vero, noi durante l'anno abbiamo fatto delle giornate particolari con il sindaco e altre associazioni, con Antonella Balistre, che abbiamo fatto provare addirittura al sindaco un percorso in capolissina. Non vi dico, perché insomma, veramente da ridere, perché dice, oddio, come faccio? Quindi tante persone l'hanno provato, ma l'hanno provato come? Per quell'istante, no? Ti ho fatto il percorso, prova a fare il percorso, no? Noi dobbiamo fare di più, dobbiamo far provare cosa realmente significa dalla mattina alla sera. Io faccio un esempio, chi di voi ha la patente non lo so ancora, chi già guida, forse ancora loro sono piccoli, però il motorino sicuramente sì, no? Quindi facciamo un esempio, scendete la mattina, lo zaino, apri, accendi il motore, via. Per noi non è lo stesso, noi arriviamo, apriamo la macchina, ti siedi e carichi la carrozzina. Ci hanno male le spalle, le braccia? Ragazzi, io non so cosa significa stare un giorno senza il dolore le spalle e le braccia, perché naturalmente se esco ed esco quattro volte in un giorno, la carrozzina la carico quattro o cinque volte. E quindi questa cosa è sicuramente problematica, problematica per tutto quello che c'è dietro. quindi barriere, cominciamo ad abbatterle veramente, ma abbatterle a 360 gradi, cominciate voi giornalmente, perché solo così possiamo e soprattutto potete dare la svolta giusta, perché abbiamo bisogno di questa, abbiamo bisogno delle svolte giuste. Vi comunico per esempio un'altra cosa, perché magari qualcuno di voi avrà qualche disabile in famiglia o conosce qualche altro ragazzo. Sapete che finalmente a Palermo, a Conca d'Oro, c'è la possibilità per un disabile di poter andare in un negozio, scegliere un capo e provarlo. Perché il direttore di Conca d'Oro ha messo a disposizione dei locali adeguati dove il disabile può provare l'abito che sta comprando. Cosa succede? Vai al negozio, ci sarà una persona incaricata, verrà, ti prende l'abbigliamento, ti porta nello spogliatoio, tu fai quello che devi fare, ritorni, ti riaccompagni, non se ti va bene lo compri, se non lo. Tante volte noi cosa facciamo? chiediamo al negoziante, guardi posso prenderlo, poi lo provo, poi eventualmente vado a casa, perché non ti puoi mettere in uno spogliatoio normale, no? Diventa difficoltoso farlo. E questo quindi è già un grandissimo passavanti. Ogni mese, dall'anno scorso, dal 3 dicembre, sono state fatte degli incontri dove si parla di disabilità, dove si parla di barriere, e ogni mese c'è stato un incontro dove tutte le associazioni, dove tutti gli assessori relativi ai vari, diciamo, l'assessore allo sport, l'assessore alla scuola, Giovanna Marano, insomma ha lavorato tantissimo in questa situazione. E abbiamo fatto questi incontri dove veramente c'è stato un dialogo aperto con le istituzioni, perché se non si parla con le istituzioni tutto si ferma lì. Quindi si è parlato dell'aeroporto, si è parlato di tutte le problematiche che ci sono nella nostra città e non solo. Nelle nostre scuole, ragazzi, nelle nostre scuole, anche qui abbiamo le barriere. Come sono state superate stamattina da me queste barriere? Sono state superate con due persone che hanno preso la carrozzina e mi hanno salito. Ecco, quella non era una barriera, perché quei gradini sono stati annullati, quindi la barriera che era reale e fisica è stata annullata da una barriera mentale, perché c'è chi era lì ad aiutarmi a farmi salire. Ma dobbiamo arrivare oltre, e quello credo che sia la cosa più importante. Io adesso se la professoressa è d'accordo vorrei sapere se qualcuno ha qualche domanda specifica da fare, magari qualche curiosità o qualcosa. saa... Quälti? Grazie a tutti.